Il libro di Sabrina, che peraltro è il secondo, già dalla copertina bellissima e dal titolo che è Rosso del Cuore, dimostra che è una donna, che tutti quanti concorderanno, emotivamente e coinvolgente, una donna di grandissima sensibilità, che peraltro fa esprimere i suoi sentimenti con grandissima tenerezza, cosa che di questi tempi non è poi così molto comune, però anche nel contempo con ironia, perché la tenerezza soltanto potrebbe diventare anche un pochino noiosa, invece lei alterna questi momenti di grandissima profondità, di grandissima sensibilità di una poesia quasi attocentista in certi casi, con un'ironia che invece la fa diventare una persona dei nostri sentimenti e quindi questo è un grandissimo pregio perché non ha noia e approfondisce veramente tutti gli aspetti dell'animo umano e ovviamente il dettaglio. Nel suo prosimetro, che è fatto di racconti e di poesie, il prosimetro è proprio quel componimento, soprattutto nato nell'altro certo genere, dove ci sono sia le poesie e sia la prosa. Ovviamente nel suo c'è qualcosa di più perché ci sono dei riferimenti, indovinate un po' a internet, quindi a Facebook, a tutto quello che è la modernità di un giorno, il pane quotidiano, quello è un po' meno. E sono alcune, diciamo un po' tutto, alcune di più o meno frammenti di anima. Questa espressione non mi è nuova. Perché non lo sapesse, il suo libro precedente si chiamava Non a caso, frammenti di anima e quindi anche in questo libro la sua capacità è quella di far riflettere, di far pensare e quindi è un libro, devo dire, che va bene per tutti. Perché il rosso? Forza, passione, desiderio, intensità, comunicazione. Un rosso anche dolce e schietto. Sabrina si mette al nudo in modo l'unico o passionale, tra dolcezze e pensieri con verità spietate. Un po' carnetice di e con se stessa, ma carezzevole sempre. Racconta sentimenti che in molti di noi restano sorgnoni e inespressi. Per condividere non mette barriere, ma niente paura. È una storia storia. Scritto il primo libro, dici proprio, avevi pensato di aver chiuso il cerchio. Quindi basta, avevi scritto, vi eri accontentata, avevi realizzato il tuo sogno, avevi messo sulla carta i tuoi pensieri. È stata la molla che ti ha spinto poi invece a riprendere la penna e a regalarci il vostro cuore. Allora, intanto il primo libro era il frutto di una vita, sostanzialmente, no? Perché c'erano delle poesie giovanili, poi poesie scritte in età matura, con un intervallo di circa trent'anni. Quindi pensavo, dico, se in cinquant'anni abbondanti ho scritto uno, basta, non ce ne sarò un secondo. No, devo dire che cosa mi ha spinto? La vita, sostanzialmente, cioè la necessità di esprimere certe sensazioni, delusioni, gioie, di esorcizzare il dolore. Però, insomma, lo spunto è sempre più o meno quello che mi capita. E diciamo che la poesia è qualcosa di più immediato, anche perché a me non mi piacciono le poesie lunghissime. Quindi, diciamo, è più un un'emozione forte, immediata, che viene messa su carta. Mentre invece il racconto deve essere un pochino più articolato, insomma, no? Anche quello, la storia virtuale è stato un materiale raccolto in un arco di tempo abbastanza, insomma, più vasto. Tempo. Ci vuole tempo. Tempo perché il grano maturi e il gruppo diventi farfalla. Ci vuole tempo perché l'embrione diventi feto e poi neonato. Ci vuole tempo per riempire i vuoti lasciati da chi non ha saputo aspettarci. Ci vuole tempo per rialzarsi, cadere e rialzarsi di nuovo. Ci vuole tempo per far lievitare il pane e far invecchiare il vino. Tempo per far allungare i capelli e per saldare le fratture. Tempo per capire e capirsi, per sconfiggere le paure e trovare la consapevolezza. Tempo per accettare la verità, da sempre conosciuta e per troppo tempo negata. Grazie.